eccoci qua benvenuti a tutti e chi non mi conoscesse io sono andrea gianantonio di fianco a me c'è il presidente massimiliano arione e siamo gli organizzati del pugroma e chi non ci conoscesse di nuovo il pugroma nasce nel lontano luglio 2010 come costola locale del grusp ci incontriamo ogni ultimo martedì del mese dove parliamo di tecniche di programmazione metodologie di sviluppo e design pattern ovviamente parliamo anche di linguaggi e spesso di php ma non ci poniamo limiti in questo senso per chi fosse interessato a seguirci ed effettuare delle proposte di talk in chat a breve segnaleremo tutti i nostri riferimenti prima di presentare il nostro speaker di oggi che è un grandissimo amico con il quale condivido anche molto la scena open source review issue eccetera eccetera vi prego di tenere spento audio e video durante il talk se avete delle domande potete farle tranquillamente in chat appuntarvele oppure a fine talk alzate la manina serenamente potete attivare audio e video per fare la vostra domanda vi ricordo che a fine talk sarà estratta tra partecipanti una licenza annuale offerta a jet brings per un prodotto a vostra scelta solo per oggi invece anche un bellissimo elefantino offerto da site ground e con questo basta con gli indugi lascio subito la parola al nostro special guest di oggi che lo invito a venire on stage alessandro minocchieri direttamente dal pug nostro cugino romagna grazie e buona visione ciao a tutti intanto è un piacere essere qui e questo invito sicuramente ha fatto molto piacere e parto subito allora con condividere lo schermo così possiamo partire allora questa sera come allora dovreste riuscire a vedere il mio schermo se non fosse così ditemelo spero di sì mi dice solamente Andrea se vedi la mia scheda principale per favore sì sì perfetto ok perché zoom in questo momento mi sta dicendo che non è così quindi in questo momento sono un po' all'oscuro allora sicuramente questo talk come ha detto Andrea si parla di symphony e dell'architettura esagonale e questo talk mi è venuto l'ispirazione perché praticamente ne sento molto parlare comunque ne sento la necessità e ho visto tutti i benefit possibili immaginabili che ammetto che ho riscontrato con mano quello che sicuramente vi condivido oggi è un'esperienza e come tale deve essere presa mi presento intanto io sono Alessandro Minoccheri e sono uno sviluppatore in flowing e mi occupo di PHP e Node.js sono un amante dell'open source e mi potete trovare su GitHub e su Stack Overflow e quello che mi piace sempre condividere lo potete vedere su Twitter e su GitHub con questi nickname prima di partire mi piacerebbe dire anche che sono un coordinatore, il co-founder del Pug Romagna per il quale facciamo talk anche lì a scopo con PHP e non solo allora le mie aspettative di oggi sono comunque di io ho perso di nuovo lo schermo mi sta continuando a perdere lo schermo non stai condividendo più no Zoom mi sta buttando fuori ok vedete la slide expectation giusto ok dovreste vedere lo schermo giusto ma Zoom mi sta continuando a buttare fuori allora le mie aspettative di oggi sono di condividere con voi la mia esperienza sull'architettura esagonale e come l'ho trovata utile per il mio flusso di lavoro e come ho detto prima non dovete prendere questo talk come una serie di regole o comunque di imposizioni perché penso che sia importante capire cosa voglia dire, cosa voglia esprime l'architettura esagonale e dovete capire voi nel vostro progetto, nel vostro team insieme se è un'architettura che fa per voi o meno perché non è detto che tutti i progetti, tutti i team debbano adottare questa architettura ma è importante sapere i vantaggi e gli svantaggi che ha questa architettura e soprattutto quando e come utilizzarla quindi mi piacerebbe raccontarvi una storia reale una storia che può succedere tutti i giorni nel day by day ed è quello che bene o male succede ogni tanto per fortuna o meno cioè una nuova applicazione arriva e possiamo costruirla da zero possiamo costruirla con le migliori tecnologie, l'ultima versione del framework i componenti migliori che uno possa utilizzare ma il business spesso ci chiede di più ci chiede di farlo in una maniera veloce perché ci sono delle ragioni di business oppure ci chiede di farlo in maniera veloce perché c'è una consegna, c'è una delivery da fare e quindi questa necessità, questa esigenza spesso ho visto con mano che porta gli sviluppatori a creare i progetti Symfony in un certo modo cioè creando, prendendo tramite il Composer Symfony Skeleton Project rimuovendo il codice demo se c'è autogenerando le entità autogenerando a volte anche i controller sia pronte a sviluppare l'applicazione questo molti di voi potrebbero storcere il naso ma vi dico che succede molto spesso molto spesso vedo codice con tutta l'autogenerazione possibile e immaginabile perché? perché dovevamo partire, fare in fretta questo è quello che ci è stato chiesto e quindi abbiamo fatto nel miglior modo possibile in maniera più veloce possibile e Symfony ci dà queste possibilità Symfony, Doctrine o tutte queste librerie quindi potete introdurre nuovi servizi esterni e trovate quello perfetto per voi trovate quello che veramente di tà questo dà la svolta al mio progetto questo riuscirò a metterlo dentro e finalmente tutto sarà perfetto perché grazie a questo tipo a un sistema di pagamento io sono a posto ma sei mesi dopo sei mesi dopo diciamo che è un bel lasso di tempo quel servizio è deprecato oppure avete trovato un servizio che costa meno perché questo potrebbe essere una cosa a pagamento oppure vi accorgete che trovate qualcosa veramente di migliore che vi semplifica ancora di più la vita quante volte succede a me spesso e quindi state pensando di cambiare questo servizio e in quanti punti del codice dovete modificare tale servizio per rimuoverlo e rimetterne dentro un altro cercate in tutta la codebase e trovate 42 differenti posti in tutta la codebase e fidatevi che 42 non è un numero a caso come molti di voi potrebbero sapere ad esempio nel controller payment controller avete questo metodo pay action dove gli passate il vostro servizio your bank gateway e questo servizio usate questo servizio per chiamare il metodo pay con questa firma con questi argomenti quindi prendo la request dando dei parametri un po' così un po' messi così poi avete il vostro modello o servizio questo non è ben chiaro cosa possa essere che ha questo metodo pay dove instanziate ad esempio your bank gateway in questo caso non glielo passate ma lo instanziate da zero e poi dopo usate il metodo pay in questo modo molto simile a quello precedente però anche qui tanti parametri si capisce poco quello che fa o cosa non fa oppure nel vostro user ancora avete il metodo pay e di nuovo instanziate your bank gateway in questa maniera e stavolta gli passate meno argomenti ammetto che queste queste problematiche questi casi succedono succedono anche cose più brutte a volte ma è un caso comune cioè io che metto mani spesso a college legacy è una cosa che mi capita ecco perché ho voluto metterla qui ma come mai esiste questa situazione come mai abbiamo tutte queste implementazioni di questo your bank gateway del vostro servizio sparse in giro senza una logica sembra e a mio avviso perché molto spesso gli sviluppatori noi sviluppatori pensiamo al framework come un MVC semplice un model view controller quindi parto dal controller faccio la mia richiesta magari uso un servizio e dopodiché passo al modello entità che ha i suoi getter e setter e basta e questo è un po' stretto perché stiamo aggiungendo debito tecnico spesso stiamo aggiungendo quel debito tecnico che poi ce lo portiamo avanti dopo ne discuteremo perché non stiamo ragionando in base ai comportamenti del dominio noi dobbiamo riuscire a modellare il dominio in una maniera più corretta in una maniera che esprima veramente cosa sta facendo il nostro dominio cosa sta facendo il nostro software se stiamo utilizzando questo software perché sia un proof of concept cioè un esperimento questa cosa va bene cioè facciamo in una maniera più semplice autogeneriamo tutto proviamo funziona ok abbiamo verificato almeno che questa cosa gira tutto e quando vogliamo il POC il proof of concept lo possiamo buttare nel cestino perché è fatto apposta per sperimentare ma se non siamo in quella condizione questa non è una best practice per me perché a mio avviso modellare il dominio è una di quelle cose che devo venire prima di tutto prima di capire come implementare certe parti perché si rischia poi di accoppiare il dominio col framework molto spesso e il problema che ho citato prima è molto comune e secondo me è una causa classica come ho detto prima perché pensiamo prima alle soluzioni piuttosto che ai comportamenti e se non stiamo pensando prima al modello prima al dominio ai suoi comportamenti rischiamo di farci guidare dal framework e questo causa degli altri problemi che sono l'impossibilità di aggiornare il framework ai vendor perché se abbiamo tutto accoppiato se abbiamo tutto il codice mischiato tra dominio framework quando dobbiamo aggiornare la nuova versione di Symfony cosa succede? Che dobbiamo anche toccare quelle parti di business delicate tipo i pagamenti tipo la modellazione dello user e noi siamo un po' spaventati nel farlo perché se lo facciamo rischiamo di rompere tutto oppure dobbiamo aggiornare delle librerie perché dobbiamo aggiornare PHP stessa cosa c'è molta paura a farlo perché la nostra logica di business è intracciata costi di manutenzione non sono da sottovalutare perché più evolve il progetto perché di solito noi facciamo progetti che non devono hanno una durata piccola una durata lunga quindi diciamo che la manutenzione è una cosa che deve succedere perché per manutenzione intendo anche evoluzione e quindi questi costi aumentano sempre più perché noi aggiungiamo sempre più debito tecnico ed è sempre più intrecciato più intrecciato facciamo questo codice più accoppiato lo facciamo e più costerà metterci le mani e per costi intendo sia tempo che soldi che anche stress perché anche quello è una fonte importante gli sviluppatori non sono motivati per i problemi del vecchio stack perché se non riusciamo a aggiornare il framework se non riusciamo a aggiornare le librerie pian piano diciamo che lo stack diventa vecchio e trovare sviluppatori non è semplice poi e soprattutto tenerli motivati non è semplice perché hai voglia a te a dire beh devi lavorare in questo PHP 5.4 da qui ai prossimi 10 anni non penso che molti possano essere contenti o comunque non tutti applicazione non mantenibile perché c'è un forte accoppiamento come ho detto prima copiare dominio e framework ha un side effect di avere applicazioni non mantenibili molto debito tecnico più si va avanti più accoppiamo più aggiungiamo debito tecnico di solito quando ce ne accorgiamo cosa facciamo creiamo una card da qualche parte creiamo una issue comunichiamo a qualcuno guarda stiamo aggiungendo debito tecnico questa cosa non va bene e di solito si apriamo quando finiamo poi lo facciamo molto spesso non è così io vedo backlog immensi dove ci sono card di debito tecnico mai fatte cose utili ma che non vengono mai fatte il mio consiglio in questo caso è di farle subito mettetevelo in testa di farlo subito appena ve ne accorgete se è una cosa piccola se è una cosa piccola veramente magari introducetela nella vostra feature magari mettetela dove più vi è comoda ma in quel caso lì fatela subito o subito dopo non procrastinate questa attività questa è una cosa molto importante a mio avviso quindi cosa è realmente importante nel software questa è una domanda che mi che spesso mi fanno CTO non spesso sviluppatori ma mi chiedono ma quindi per te cos'è veramente importante nel software quello che secondo me è veramente importante è il dominio la modellazione del dominio i comportamenti perché il vero valore del vostro software è il dominio la soluzione a quel problema e io sono veramente amante di Symfony non lo metto in dubbio però dovete trattarlo come tool come uno strumento che vi serve per creare la vostra applicazione e quindi non è che dovete pensare all'implementazione prima dei comportamenti di dominio ma dovete pensare prima al comportamento e il resto sono dettagli implementativi questo è una cosa molto importante secondo me da pensare perché il dominio non ha bisogno di sapere cosa utilizzati di database il dominio esprime comportamenti e quindi ora vorrei enunciarvi un pochino un po' di storia della cartettura esagonale perché serve proprio a evitare questi problemi serve a evitare che abbiamo un software che non sia mantenibile questa architettura è stata inventata pubblicata da Alistair Cockburn nel 2005 nel tentativo di evitare dipendenze indesiderate tra i livelli e la contaminazione del codice dell'interfaccia utente con la logica del dominio e ora vorrei un pochino fare un po' di enunciare un po' qualcosa di accademico una definizione che ho trovato stringata perché logicamente ce ne sarebbe veramente tanto da parlare come definizione perché non è sempre lineare l'architettura esagonale divide un sistema in diversi componenti intercambiabili non accoppiati come il core dell'applicazione il database l'interfaccia utente i test e le interfacce con altri sistemi questo vuol dire in parole povere che dobbiamo disaccoppiare il dominio dal framework questa è una cosa diciamo che possiamo stringarle in questo modo e spesso la domanda successiva che viene fatta sempre dicono ma è una sovra-ingegnerizzazione secondo me non è una sovra-ingegnerizzazione perché è un modus operandi diverso è un mindset è un approccio diverso perché dovete pensare prima magari al comportamento prima della soluzione prima dell'implementazione dovete pensare prima ai nomi delle classi prima dove mettere dividere i vari contesti dove mettere una classe piuttosto che un'altra dare i nomi corretti alle variabili quindi siamo molto vicino al domain driven design quando parliamo di ubiquitous language bounded context diciamo che sono molto vicini però è un'architettura che ammetto quando si inizia a capire quando si inizia ad approcciare ti dà molti vantaggi ecco perché non ritengo sia una sovra-ingegnerizzazione è un differente mindset quindi proviamo a fare un esempio di codice accoppiato perché uno dei miei problemi inizialmente a capire cosa vorreste dire codice accoppiato o comunque capire cosa vorreste dire veramente non devi fare codice accoppiato e ammetto che sono andato molto per esempi e in questo esempio possiamo vedere che abbiamo un codice accoppiato a mio avviso perché abbiamo una classe payment che è un servizio in questo caso con un metodo do payment che accetta una request ora accettando una request stiamo dicendo che è un oggetto di symphony che esprime una web request stiamo dicendo che questo metodo accetta solamente delle web request quindi già qui è un piccolo passo falso se dovessimo chiamare questo metodo tramite un click command o qualcos'altro non funzionerebbe cosa dovremmo fare dovremmo prendere questo codice duplicarlo o cambiare qualcosa un'altra cosa che dice che questo codice è accoppiato a mio avviso è quando facciamo new your bank gateway perché perché in questo modo se dobbiamo cambiare questo servizio dobbiamo andare a cercare in tutto il codice dove facciamo new your bank gateway è vero abbiamo php storm o qualunque altro strumento che ci può aiutare ma fidatevi che non sarei molto confidente a farlo direttamente con un tipo un string replace di tutto diciamo che non è il massimo ora cerchiamo di capire come disaccoppiare questo codice prima cosa che farei non è l'unica soluzione quindi non prendete che diciamo dobbiamo fare così per forza questa è una soluzione io creerei un'interfaccia gateway provider con un metodo pay che accetta un metodo un argomento di un money un tipo money classico il nostro servizio your bank gateway implementa quell'interfaccia e logicamente devi implementare il metodo pay con l'oggetto money e in questo caso possiamo usare nel nostro servizio nel nostro servizio payment il nostro il nostro service ma come lo facciamo tramite la dependence injection perché iniettiamo l'interfaccia non iniettiamo direttamente l'implementazione ma iniettiamo l'interfaccia in questo modo se dobbiamo cambiare il servizio basta che tipo cambiamo la configurazione o cambiamo come creiamo questo servizio in ogni caso dopodiché vedete che usiamo il metodo pay senza tanti problemi passandogli l'amount in questo caso vedete abbiamo tolto anche la request quindi questo servizio questi metodi possono essere richiamati tramite click tramite web request eccetera perché stiamo passando direttamente un oggetto money e non la request come prima e ora un'altra domanda importante è perché è così importante disaccoppiare il codice a mio avviso disaccoppiare il codice aiuta ad avere un test un codice più testabile aiuta ad avere un codice più leggibile aiuta ad avere un codice che sia mantenibile e attenzione anche qui vorrei un pochino soffermarmi su cosa vuol dire un'applicazione mantenibile ma non tenibile ci sono alcune diciamo punti che ho citato qui che secondo me ci aiutano ma è importante sapere che mantenibile vuol dire tutto vuol dire niente a volte io lo dico sempre che un'applicazione mantenibile è quando riduci il debito tecnico questa è una cosa importante e in questi punti ho messo che le modifiche in una parte dell'applicazione dovrebbero interessare il menor numero possibile di altri punti cioè se noi andiamo a modificare una specifica parte non dobbiamo modificare tutta la parte del codice stiamo modificando lo user non è che dobbiamo modificare anche il payment o altro sì magari si sono vicini ma non in tutto il codebase devono essere parti circoscritte di solito l'aggiunta di funzionalità non dovrebbe richiedere di toccare nessuna parte della base di codice cioè se stiamo aggiungendo qualcosa non è che devo modificare altro è vero magari ci sono dei servizi che si devono agganciare ma non è una modifica è un'aggiunta quindi perché dovrei modificare altro perché magari non ho costruito bene prima tutto il resto l'aggiunta di nuovi modi per interagire con l'applicazione dovrebbe richiedere il minore numero di modifiche possibile cioè se stiamo aggiungendo tipo un click command che chiama lo stesso servizio non dobbiamo modificare molta roba in teoria dovrebbe essere agnostico quel servizio dovremmo riuscire a farlo il debug dovrebbe richiedere il minore numero di workaround qui quando iniziamo a mettere di workaround per fare del debugging diciamo che possiamo avere il bad smell che abbiamo un'applicazione che non è mantenibile i test dovrebbero essere relativamente facili mi è capitato spesso di parlare con dei team in cui dicevano eh sono due giorni che proviamo a testare questa classe ammetto che due giorni per testare una classe mi sembra un po' importante come tempo quando ci mettete più di 8 ore già è tanto e dovete un po' capire che quel codice lì magari non è testabile magari deve essere iscritto perché quello è già un bad smell che c'è qualcosa che non è mantenibile quel servizio quella classe quella cosa che state testando e in questo mi piace sempre accertare la single responsibility perché quando avete un codice una classe che riesce a diciamo ad esprimere la sua responsabilità unica responsabilità diciamo che ci agevoliamo il lavoro ma la single responsibility secondo me non è solamente o comunque non solamente secondo me non è solamente per il codice è anche per l'architettura perché ciò che cambia per lo stesso motivo dovrebbe essere raggruppato insieme ad esempio il codice relativo al framework dovrebbe essere raggruppato tutto insieme il codice relativo ad uno specifico servizio dovrebbe essere raggruppato tutto insieme il codice relativo al dominio dovrebbe essere raggruppato tutti insieme e queste sono sicuramente parti che spesso non vengono fatte tutte diciamo in maniera lineare non è sempre così semplice perché quando diciamo un specifico servizio a volte raggruppa più cose quindi diciamo che dobbiamo cercare di seguire la regola e spesso ci sono eccezioni però è importante sapere che devono essere raggruppati insieme quindi ci stiamo dicendo che c'è un'importante distinzione già tra dominio ed infrastruttura secondo me è importante dividere in cartelli il dominio dell'infrastruttura e c'è anche l'application come diciamo layer tra i due a volte non c'è ma è capitato di vederlo a volte non vederlo anche qui ci sono disquisizioni eccetera non è il focus di questo talk capire queste vere distinzioni secondo me l'importante è capire che per me che non è sempre una regola nel domain io intendo ci siano i modelli cioè l'entità per gli object aggregate oppure le interfacce per i boundary objects nel livello di application possiamo avere gli use cases che chiamano magari i servizi domain eccetera nell'inversazione dell'infrastruttura nel directory dell'infrastruttura potremmo avere il framework implementazione per boundary objects web controllers i controller li ho visti anche nell'application anche lì c'è una scuola di pensiero valida con i suoi pro e i suoi contro quindi perché è così importante avere un software mantenibile diciamo che abbiamo già citato diversi problemi certi casi ma ammetto che questo questa definizione software mantenibile mi è venuta proprio perché ho avuto modo di lavorare spesso con progetti grandi progetti importanti che facciano girare molto denaro in cui erano bloccati bloccati come software come tecnologia come libreria erano veramente bloccati a Zen 1 a Symfony 1 e quindi viene da dire forse è veramente importante avere un software mantenibile perché se non riescono ad evolvere questo codice così importante per il business così importante per l'azienda è un problema e spesso dopo cosa dicono eh beh riscriviamo tutto con i relativi costi poi è anche difficile trovare le persone che possono sviluppare in quella tecnologia trovare persone che possano sviluppare in Zen 1 in Symfony 1 non è sempre così scontato persone che abbiano voglia di farlo anche e quindi un'altra domanda spesso che mi è stata fatta è perché è un esagono cioè il catettore esagonale perché è esagono per me possono essere 6, 24, 32 i lati l'importante è capire che per ogni lato c'è una porta che deve essere implementata da un adapter e ora andiamo ad analizzare cosa significano le porte e gli adapter le porte sono fondamentalmente dei contratti non hanno rappresentazione nella code base sono diciamo delle interfacce e possiamo avere porte di input e porte di output proviamo a avere le porte di input che sono delle semplici interfacce in questo caso un pre-order handler che ha il metodo handle in questo caso stiamo dicendo come essendo un input come le applicazioni esterne possono imparare con noi viceversa abbiamo le porte di output in questo caso un user repository interfaccia sempre che ha dei metodi che dicono come parleremo con l'esterno stessa cosa abbiamo gli adapter diciamo che gli adapter in verità in questo caso non sono delle interfacce ma sono le implementazioni reali del codice quindi dobbiamo implementare le interfacce le nostre porte e come le porte abbiamo adapter di input e adapter di output per ogni tipo di porta e qui c'è proprio l'implementazione come potete vedere in questo caso MySQL user repository implementa la nostra interfaccia user repository e ci sono i metodi in questo caso ho evitato di scrivere tutto il codice dentro ma qui c'è proprio l'implementazione cioè qui andiamo a fare la query di save di find by d di find all c'è proprio il codice a basso livello e gli adapter sono di solito nell'infrastruttura questo è uno schemino che può aiutare un pochino a capire come viene fatto noi abbiamo ad esempio delle HTTP request dei click command che intrapellano i nostri input adapters che implementano le nostre input port cioè in questo caso gli adapter sono l'infrastruttura e le porte dentro del dominio dopodiché perdon dopodiché abbiamo dall'altra parte le porte di output che vengono implementate dei nostri adapter che servono per parlare col database esterno ora proviamo a fare un esempio di struttura di un progetto qui dopo vi farò un esempio migliore più avanti nel codice però qui è importante capire che abbiamo diviso in contesti e dentro ogni contesto da payment a cart abbiamo la divisione da domain application e infrastructure questa è una divisione base che può essere sfruttata come no ora se noi applichiamo i principi dell'architettura esagonale e li combiniamo con il principio di inversione di dipendenze possiamo avere una combinazione atomica veramente di miglioramento del codice e in questo caso significa che praticamente i metodi di alto livello non dovrebbero dipendere da quelli di basso livello non dovrebbero dipendere dai modi di basso livello cosa vuol dire che una classe di infrastruttura può dipendere da una classe di application e domain una classe di applicazione può dipendere dal domain ma non dall'infrastruttura una classe di domini un servizio di dominio non dovrebbe dipendere da applicazioni e da infrastruttura questa è una combinazione molto importante perché ci aiuta a disaccoppiare il codice ancora di più ed è una anche qui dei principi del domain driven design e passiamo anche ai vantaggi perché in questo momento stiamo guardando i problemi cause effetti eccetera ma vorrei esprimermi anche i vantaggi che ci sono nell'uso dell'architettura esagonale perché secondo me ce ne sono molti e ammetto che forse alcuni li ho anche tralasciati ma ce ne sono alcuni che mi piace proprio incentrare l'attenzione sicuramente incrementiamo la testabilità perché la testabilità è data dal fatto che tante parti del codice non dipendono dal framework dal database non dipendono dal da una connessione internet non ne hanno bisogno quindi in questo caso possiamo dire che possiamo avere più test e sicuramente più test unitari che è quella parte che secondo me ci aiuta veramente tanto a capire se stiamo scrivendo del codice fatto per bene perché scrivere test unitari ci diciamo aiuta e di solito ammetto che mi piace scriverli prima in TDD però quando arrivi magari su un codice già legacy è difficile farlo però l'architettura secondaria si può anche applicare in quei casi e lo andremo a vedere soprattutto si possono sostituire le implementazioni senza toccare il dominio cioè toccando solamente da parte di infrastruttura possiamo prendere decisioni più tardi perché è importante prima capire il comportamento e poi l'implementazione giusta da fare o no possiamo aggiornare i vendor e il framework senza toccare il dominio perché è tutta un'infrastruttura la parte di implementazione ok possiamo creare applicazioni mantenibili e questo secondo me è veramente una killer feature ora questo è un esempio di codice legacy o comunque di esempio che abbiamo fatto con una parte di codice legacy un approccio dove abbiamo il codice legacy dentro src legacy abbiamo creato una cartella src o src con dentro i vari contesti payment e user dentro allo user abbiamo spacchettato in application domain infrastructure dove all'interno magari dell'application ci abbiamo messo dto con anche un servizio nel dominio ci abbiamo messo repository l'interfaccia e il modello nell'infrastruttura ci sono i comandi controller e repository che i repository in questo caso implementa l'interfaccia ok e questo è esempio di controller che abbiamo implementato dove c'è una save action in sostanza in questo caso iniettiamo la request e il create user service che è un servizio applicazione e quindi andiamo a creare il dto create user request con il metodo create dove prendiamo accettiamo il metodo diciamo l'argomento della request prendiamo tutti i dati mappiamo questo dto e poi creiamo l'utente con questa request e torniamo a una response json il nostro invece servizio iniettiamo lo user repository in questo caso e nel servizio nel metodo create user creiamo il modello usando il dto che vi passiamo e dopodichè salviamo direttamente nei repository in questo caso dopo ritorniamo una risposta che proviene da un oggetto che può essere di dominio molto semplice per la risposta quando usare questa architettura quando avete un progetto nuovo quando dovete sviluppare un nuovo contesto in un'applicazione legacy e qui c'è il discorso di sempre per me sempre non è una regola che vale sempre in questo caso perché dipende sempre ammetto che quando ho iniziato a usare questa architettura è molto difficile uscire dal mindset perché capite veramente i vantaggi che si hanno quindi ecco perché sempre per me ammetto che lo uso molto spesso ma qual è l'approccio ai progetti legacy che non utilizzano l'architettura esagonale a mio avviso quando approccio un progetto legacy che non utilizza l'architettura esagonale cerco di radunare il team e dico bene questo è l'architettura esagonale cosa ve ne pare perché voi avete un codice che magari non è mantenibile voi avete dei problemi in questo caso cosa facciamo quindi bisognerebbe fare qualcosa per bene noi dobbiamo creare del codice mantenibile l'architettura esagonale si risposa perfettamente quindi proviamo magari con le parti nuove a farle con l'architettura esagonale una parte apposita diversa separata e mi piace seguire questa regola d'oro che ammetto che mi piace sempre raccontarla che è la regola del boy scout che lascia il tuo codice migliore rispetto a come l'hai trovato questo perché perché spesso andiamo a toccare parti di codice che non sono corrette che non sono mantenibili cerchiamo di fare quel piccolo miglioramento che ci aiuta è logico se stiamo facendo una feature non dobbiamo metterci a fare altro magari segnaliamo questa cosa da qualche parte come prima debito tecnico facciamolo subito dopo o se è una cosa piccola immediatamente ecco perché questa regola d'oro mi piace sempre condividerla e un'altra domanda che viene fatta è da dove possiamo partire usare più interfacce possibili perché le interfacce ti aiutano già a disaccoppiarti usare la dependency injection è un pattern che possiamo usare veramente quasi sempre con Symfony è praticamente a gratis quindi perché no se non avete Symfony ci sono librerie che implementano la dependency injection quindi direi che è fattibile fare pratica con dei Kata i Kata sono progetti che uno si fa per sé per provare cose nuove per provare esperimenti per la libreria per provare framework nuovi eccetera io ammetto che ne ho fatti veramente tanti ne ho fatti a Iosa per provare cose nuove per provare pattern nuovi per provare architetture quando poi hai avuto un po' di confidenza si può pensare di applicare architettura esagonale a progetti reali ulteriori miglioramenti che possiamo fare nei nostri progetti sono domain driven design CQRS command query responsibility segregation event sourcing TDD e BDD tutte queste metodologie tecniche eccetera possono aumentare ancora di più la nostra la nostra qualità del progetto la mantenibilità del progetto ammetto che fare tutte insieme spesso non è semplice quando mi è capitato però implementato e fatto per bene diciamo che danno veramente spessore a quello che diventa poi il software se fatto in maniera corretta e con questo vi ringrazio vi invito a seguirmi su questo su Twitter con questo nickname e direi che abbiamo terminato questo talk sono pronto alle domande e i a e e e e e Grazie.